Si può parlare come di cultura a Bari? Si dovrebbe parlare in maniera molto più concreta, perché fino ad ora abbiamo visto soltanto parole, intenti, progetti mai portati a termine, spazi teatrali aperti e chiusi, quindi diventa molto problematico per noi operatori culturali riuscire a trovare fonti economiche per produrre e spazi teatrali dove poter produrre. Cultura, da 1 a 10 negli ultimi anni che voto diamo? Basta rispondere che il Comune di Bari non ha da 5 anni un Assessore alla Cultura e ti ho dato la risposta. Le prime tre cose che bisognerebbe fare insediato l'Assessore alla Cultura? Fare una grande riunione delle associazioni, vedere chi è realmente un operatore serio, professionale, con curriculum, approntare subito delle regole reali e vere, con dei parametri molto ben precisi, e poi programmare in modo coordinato le stagioni teatrali e aprire al mio settore alla danza molto di più, perché io e i miei colleghi abbiamo un bisogno reale di potersi esprimere. Grazie a tutti!